Allora, come ti chiami? Buonasera, sono Lino Mazzocco e vengo da Roma. Ho avuto un ictus ischemico, praticamente sono stato in coma e ho iniziato una riabilitazione a Roma. I risultati non sono stati molto buoni e ho iniziato questo percorso con cellule staminali. Scusami, devo chiederti, quanto tempo hai fatto questo trattamento nella Roma e dopo di quanto tempo hai riuscito? Allora, circa un anno e mezzo ho fatto fisioterapia con scarsi risultati. Dopodiché ho deciso comunque di intraprendere questo percorso con cellule staminali. Importante una domanda adesso, devo chiederti. Come hai saputo, proprio come hai venuto a idea a fare queste cellule staminali? Dove hai sentito questo? A Roma, in Italia già se ne parlava sui telegiornali. Quindi ho deciso di andare su internet e di cercare questa clinica. Sì. Mi è apparsa questa clinica, ho preso subito i primi contatti e dopo ho comunque ricevuto sbagliati consigli sul trattamento con cellule staminali. Io ho deciso di intraprendere questo percorso. Bene, bene. Ma posso chiederti, questo non è prima volta? Sono circa 5-6 volte che vengo qui perché mi è stato consigliato dalla neurologa. Un neurologo da Roma. Da Roma, proprio. Va bene. Adesso una cosa molto importante, quali sono i progressi? Hai notato qualcosa che è cambiato durante tutti questi 5 percorsi? Io praticamente prima ero completamente paralizzato e avevo recuperato solo l'uso degli atti superiori. Adesso invece comunque cammino con bastone. Sono abbastanza indipendente, guendo la macchina e ho ricominciato a lavorare. Ottimo, ottimo. Allora ci sono progressi, anche cambiamenti, tanti a meglio. Ci sono molti cambiamenti sulla vita personale, anche dal punto di vista fisico, che è comunque il contatto con la gente. Allora, adesso è molto importante, mi hanno chiesto, proprio tu hai visto un cambiamento quando si tratta di proprio la vita giornaliera, no? Sì, sì. Vedi che ci sono i proprio... Io ho avuto un cambiamento drastico nella vita giornaliera perché praticamente ho ricominciato a fare tutte le funzioni di una persona che non ha problemi. Questo è molto importante. Adesso devo chiederti una cosa che alla fine si può... Come hai la tua impressione su questo posto? Come hai trovato il personale? Come hai trovato questa clinica? Come hai trovato tutto questo? I medici mi sono sembrati molto professionali e molto all'avanguardia. Il personale è carino, stupendo, è ottimo, è molto attento ai minimi particolari e sicuramente ci tornerò. È importante che ti sei sentito come a casa questo. Sì, praticamente sì, mi sono sentito a casa, ho avuto anche una stanza, faccio la terapia e torno a stanza. Quindi mi sono trovato molto bene. Va bene, va bene, Lino. Ti auguro una buona fortuna. Grazie. Un davvero in bocca al lupo, come dicono gli italiani, in bocca al lupo. Grazie. E uno da Roma sa cosa vuol dire lupo. Ti auguro tutto bene. Grazie tanto.